In questo video andremo a vedere come vincolarsi alla nostra teleferica utilizzando un moschettone, un spazzone di corda e il vostro cricri o il vostro discensore Fate un nodo ad otto, agganciate il vostro moschettone e con quello agganciate la corda Mettete il moschettone subito in sicurezza perché a questo punto non ci servirà più lavorare direttamente su questo moschettone Prendete il vostro discensore, il vostro cricri in questo caso fate passare la corda come se dovete effettuare la manovra di risalita su corda Bloccate il moschettone avendo cura come sempre di lavorare con il cricri sul lato lungo nel moschettone stesso in modo tale che quando andiamo a caricare andiamo ad avvicinare la corda a noi senza doverci tirare su a braccio e effettuare altre manovre poco comode abbiamo il moschettone che va subito in blocco con la corda sempre in mano per evitare che ci sfugga la fate passare all'interno del vostro moschettone ed eseguite asola contro asola su cricri sempre queste manovre le trovate nel link in descrizione con la specifica di come effettuare questa manovra prendete parecchia corda, effettuate un'ansa a monte del cricri bloccate la vostra ansa e con quello che arriva in ansa effettuate la contro asola in questo modo il sistema è totalmente vincolare il vostro cricri è in sicurezza e lo spezzone di corda non potrà sciogliersi e la vostra corda è caricata a questo punto potete effettuare la vostra manovra di movimentazione su teleferica mi raccomando lavorate sempre in sicurezza mettete mi piace e iscrivetevi al mio canale grazie grazie